15 febbraio 2013, appena 11 anni fa, un asteroide impattava sulla Terra. Era grande circa 20 metri, presava 12.000 tonnellate ed è esploso in aria al di sopra della regione siberiana di Celiabinsk. Il suo bagliore per qualche momento ha superato anche quello del Sole. L'asteroide in sé non ha causato morti, ma l'evento di Celiabinsk ha causato oltre 1.500 feriti. I frammenti dell'asteroide cadendo hanno generato intense onde d'urto, in grado di danneggiare edifici e rompere i vetri delle finestre. Molti abitanti di Celiabinsk sono allora stati colpiti e feriti da questi vetri. Insomma è stato un bel disastro, ma andiamo con calma, perché voglio ricostruire che cosa è successo in quel gelido febbraio siberiano, che cosa è stato davvero l'evento di Celiabinsk. Siamo al confine tra la Russia e il Kazakhstan, nell'oblast di Celiabinsk, una delle regioni in cui è suddivisa la federazione russa. Il capoluogo di questo oblast è la città di Celiabinsk, in cui vivono oltre un milione di abitanti. Attorno alle 9.20 del 15 febbraio 2013 è successo qualcosa che sicuramente gli abitanti di Celiabinsk e delle regioni vicine non potevano aspettarsi. Un gigantesco bolide è esploso in aria con un forte boato, illuminando per qualche istante il cielo con una luce più intensa di quella del sole. Molti testimoni hanno assistito all'evento o lo hanno addirittura ripreso con le loro telecamere. Alcuni hanno riportato anche di aver sentito un odore di bruciato e di zolfo persistente nelle ore successive in atmosfera. 1491 persone sono rimaste ferite a causa dell'evento, 112 ricoverate e due in condizioni gravi. L'onda d'urto infatti aveva generato un'esplosione dei vetri delle finestre che schizzando via avevano ferito tantissime persone. Ma non è finita qui, perché 180 persone hanno riportato un dolore agli occhi nelle ore successive e 70 addirittura una cecità temporanea. 20 persone inoltre hanno riportato come delle bruciature sul corpo come se fossero state esposte al sole a raggi ultravioletti per ore intere. Dopo l'esplosione le linee telefoniche sono rimaste saturate per varie ore a causa delle persone che chiamavano i soccorsi o che chiamavano i parenti per sapere se stavano bene o che chiamavano le autorità per capire che cosa stesse succedendo quella mattina. Divenne tutto più chiaro nei giorni successivi, ma anche poi nelle settimane, nei mesi, negli anni successivi, mano a mano che i ricercatori ricevevano moltissimi dati su questo evento, perché in effetti quello è stato uno degli impatti di asteroidi in assoluto più documentati nella storia. Sicuramente era il più intenso evento di impatto planetario di cui abbiamo notizia fin dall'evento di Tunguska del 1908. Di questo abbiamo addirittura delle meteoriti che sono state recuperate nel corso degli anni successivi. Oggi abbiamo le idee abbastanza chiare di che cosa sia successo, ma anche di quali fossero le caratteristiche del corpo impattante e soprattutto del perché a causa della sua traiettoria non siamo riusciti a prevederlo per tempo. Prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Se vi interessano gli asteroidi, le meteoriti, le scienze planetarie in generale e l'astronomia, questo è il luogo che fa per voi. Per voi sono un paio di click, l'iscrizione alla campanella, ma per me è molto importante perché so che nel momento in cui pubblico un nuovo contenuto arriva anche alle persone che sono interessate a usufruirne. E già così, oltre a mettere like, condividere e commentare questo video, mi è dato una grossa mano nel andare avanti appunto con questo progetto. Se poi volete fare lo step successivo potete anche sostenere questo progetto su Tipeee, che è un programma di abbonamenti che vi consente appunto di sostenere i progetti in cui credete anche a soltanto a partire da 2 euro al mese. Se lo farete vedrete il vostro nome tra ringraziamenti alla fine di ogni video e inoltre entrerete a far parte di una community esclusiva su Telegram che è quella di ROS248B, una chat esclusiva appunto per i tippers in cui ci conosciamo meglio e in cui possiamo parlare dei progetti presenti e futuri relativi a questo canale. E ne approfitto per ringraziare i miei tippers perché anche grazie a loro se questo progetto appunto può andare avanti e essere sostenibile. Ma adesso torniamo in Siberia. Il più grosso impatto planetario in tempi recenti è senz'altro quello avvenuto nella regione di Tunguska, incidentalmente sempre in Siberia. Il 30 giugno 1908 un asteroide di circa 50 metri di diametro è esploso a 5-10 chilometri di altitudine. Ha rilasciato un'energia pari a 15 milioni di tonnellate di TNT o megatoni. La sua energia cinetica trasferita all'atmosfera ha devastato un'area di 2150 chilometri quadrati di foresta. Ci sono poche testimonianze e pochi dati di quell'evento quindi anche un po' difficile ricostruire con esattezza come sia andato quel 30 giugno 1908. Comunque dell'evento di Tunguska ve ne ho parlato approfonditamente in un altro video piuttosto vecchio che fa un po' schifo a quanto ha forma, luci, suoni eccetera. Però comunque le informazioni ci sono quindi se vi interessa potete andare a recuperarlo. E dall'evento di Tunguska non ci sono più stati altri eventi di proporzioni simili sulla faccia della Terra fino al 2013. C'è stato qualche impatto avvenuto in mezzo all'oceano, uno nel 94 sulle isole Marshall, uno nel 2009 in Indonesia, ma erano tutti eventi di una decina di chilotoni, quindi circa mille volte più deboli rispetto a Tunguska. La faccenda invece è diversa per l'evento di Celiabinsk, soprattutto per quanto riguarda la quantità di testimonianze e di dati, ma anche le proporzioni stesse dell'evento. Abbiamo potuto ricostruire con precisione la traiettoria e la dinamica dell'impatto grazie a oltre 400 video amatoriali fatti dalla popolazione locale, dalle videocamere di sicurezza, quelle delle auto, quelle del traffico. Insomma abbiamo moltissimi reperti che ci raccontano di come sia avvenuto quell'evento. Altri video invece mostrano quali sono i danni che sono stati fatti, gli effetti insomma di quell'esplosione, i danni ai vetri, appunto le ferite. Ci sono tanti video che riguardano appunto l'evento di Celiabinsk. In alcuni video c'è anche l'audio che ci mostra il momento in cui l'asteroide ha superato la velocità del suono generando quel boom sonico che sentiamo qualche volta quando magari gli aerei militari fanno esercitazioni e vanno oltre la velocità del suono. Ma i dati non si limitano a questi video, a questi suoni, perché i stessi suoni in realtà si sono poi propagati piano piano nell'atmosfera indebolendosi e arrivando nella regione degli infrasuoni, ma questi infrasuoni sono arrivati anche ad altre stazioni in giro per il mondo che ci hanno permesso appunto di misurarli. Così come anche le onde sismiche generate a quell'evento sono arrivate ai sismometri in giro un po' per tutto il mondo. La polvere rilasciata all'asteroide mano a mano che si frammentava in atmosfera è stata rilevata dai satelliti meteorologici, ma poi in ultima analisi la prova più importante in assoluto che abbiamo sono le meteoriti, ossia i frammenti di questi asteroide che sono arrivate a toccare Terra. Insomma abbiamo veramente moltissimi dati sull'evento di Celiabinsk e c'è un bel report dell'Unione Astronomica Internazionale del 2016 che riporta tutti i dettagli fino a quel momento noti. Innanzitutto la traiettoria è stata calcolata facendo delle operazioni di triangolazione, ossia sono stati presi vari video che ritraevano in buona qualità la traiettoria dell'asteroide e conoscendo le coordinate di dove sono stati registrati questi video è stato possibile appunto ricostruire quale fosse la traiettoria originaria dell'asteroide. L'asteroide ha viaggiato tra i 95 e i 12 chilometri di altitudine per un totale di 17 secondi. In questo frangente ha coperto una distanza di 272 chilometri con un'inclinazione di 18 gradi. In questo percorso l'asteroide ha rallentato tantissimo semplicemente perché a causa dell'attrito dell'aria piano piano perdeva energia cinetica e trasferiva appunto all'atmosfera. Per capirci la velocità iniziale era di 19 chilometri al secondo circa 60.000 chilometri orari e quella finale era di 3 chilometri al secondo che sono circa 10.000 chilometri orari quindi da 60.000 a 10.000 c'è una bella differenza. Nella fase di maggior rilascio di energia ha trasmesso l'atmosfera circa 500 chilotoni di energia ossia mezzo megatone. Ricordo Tunguska 15 megatoni mentre la più grande esplosione termonucleare mai testata nella storia sono circa 50 megatoni. Quindi insomma non certo l'evento più intenso di questo tipo ma comunque con una buona intensità. L'onda d'urto si è generata principalmente tra i 25 e 35 chilometri di altitudine quindi lì l'asteroide ha perso la maggior parte della sua energia e lo ha fatto con una simmetria cilindrica ossia non è esploso tutto quanto in un punto ma mentre si muoveva si è frammentato in vari punti e ha rilasciato l'energia appunto in una simmetria cilindrica. A causa della propagazione di questa onda d'urto è crollato il tetto di un edificio e ci sono stati oltre 7.200 edifici in cui sono esplose appunto le finestre o comunque sono stati danneggiati i vetri. I vetri sono schizzati a oltre 7-9 metri al secondo che sono circa 30 chilometri orari e lì hanno ferito appunto moltissime persone come dicevo oltre 1.613 feriti in totale tra cui 112 ospedalizzati e due anche in condizioni gravi. Ma quanto doveva essere grande questo asteroide per fare tutti questi danni? Dall'energia rilasciata dalla velocità misurata attraverso lo studio dei video è risultata un asteroide circa 12.000 tonnellate quindi 12 milioni di chilogrammi di materiale. Avendo poi recuperato alcune meteoriti di questo asteroide e valutando che la loro densità dovrebbe essere la stessa di tutto quanto il corpo progenitore allora la dimensione totale dell'asteroide sarebbe circa 19 metri. Sì non mi sono sbagliato proprio 19 metri ossia è un sassolino piccolino grande meno di una piccola palazzina se vogliamo ed è veramente incredibile che un sasso cosmico così piccolo abbia creato tutti questi danni tutti questi disagi quantomeno. La maggior parte dell'asteroide in realtà si è polverizzato ha perso della polvere tra i 70 e i 30 chilometri ed è soltanto quindi nell'ultima fase che si è frammentato in più pezzi. A 29 chilometri era rimasta circa una ventina di blocchi ognuno grande da 1 a 3 metri e a terra è arrivato un singolo grosso frammento che evidentemente era il più grande tra questi 20 che è caduto all'interno del lago Cebarcul e otto mesi dopo a dicembre di quell'anno è stato recuperato dalle acque del lago. Il frammento principale pesava 540 chilogrammi poi sono state rinvenute nei paraggi altre meteoriti 7 o anche qualcuno in più in totale che tutte insieme pesavano 84 chilogrammi. In totale in realtà sono state ritrovate oltre 1923 meteoriti la maggior parte delle quali però sono piccoli sassolini grandi appena un grammo o anche meno. Chissà quanti altri ce ne stanno lì nei paraggi chissà quante sono state portate dentro le case senza che siano state poi archiviate e contate insomma quindi sicuramente ce ne sono molti di più rispetto a quelle che sono state ritrovate. Si stima che in totale la massa che dovrebbe essere arrivata a terra è tra i 4.000 e i 10.000 chilogrammi che comunque è meno dell'1 per cento della massa iniziale dell'asteroide che era di 12 milioni di chilogrammi quindi tutta la differenza si è persa proprio in aria. Le analisi delle meteoriti di Celiabinsk hanno dato una composizione delle condriti ordinarie di tipo LL5 dove le condriti ordinarie sono le meteoriti in assoluto più diffuse che troviamo per questo ordinarie e in particolare quelle LL sono quelle più rappresentate all'interno delle classi di meteoriti. Circa il 9 per cento di tutte le meteoriti che abbiamo mai trovato appartiene proprio a questa classe. Sono meteoriti che hanno un basso quantitativo di ferro puro LL per quello è low low e circa il 10 per cento della massa di queste meteoriti è fatta appunto di ferro meteoritico. Il resto sono per lo più silicati quindi olivina principalmente e dei composti dello zolfo che ragionevolmente sono proprio quelli che hanno dato quella sensazione di odore di zolfo di bruciato nell'aria nelle ore successive all'impatto. Ma come è possibile che non abbiamo rilevato la presenza di questi asteroide prima dell'impatto? Ecco noi in realtà ormai conosciamo quasi il cento per cento degli asteroidi attorno alla terra ma di quelli abbastanza grandi quindi di un diametro pari almeno a un chilometro o di più. Ma quelli di classe più piccola come questo che appunto era una ventina di metri quindi era proprio un sassolino dal punto di vista del sistema solare ci sfuggono per la maggior parte nel senso che noi è difficile riuscire a osservare e prevedere l'impatto di un asteroide se non riusciamo a vederlo prima perché essendo così piccoli sono anche molto poco luminosi in cielo quindi è difficile riuscire a osservarli per tempo. Ma quello dice di Habinsk dallo studio della traiettoria abbiamo capito che aveva un problema ulteriore ossia che veniva dalla direzione del sole e quindi tutti i telescopi terrestri a parte quelli che osservano il sole ma che non sono adatti per osservare gli asteroidi sono ciechi ovviamente nella regione solare. Ma ecco mi permette di sottolineare che un asteroide come questo quindi di classe tra i 10 100 metri non può creare danni su scala globale non può causare estinzioni come quello dei dinosauri però può fare dei grossi danni a livello locale. In questo caso la situazione non è andata troppo male non sono stati causate delle vittime da questo asteroide semplicemente perché è esploso abbastanza in alto in aria ma questa è soltanto una condizione di fortuna perché se l'asteroide fosse stato di un materiale più resistente per esempio all'aria si sarebbe frammentato sarebbe esploso in realtà più vicino a terra e quindi avrebbe fatto molti più danni. Quindi insomma la sostanza è che anche gli asteroidi di queste dimensioni vanno monitorati perché solo in questo modo possiamo avere il tempo di evacuare le città. Gli asteroidi che arrivano di giorno possiamo monitorarli comunque con i telescopi spaziali quindi dobbiamo monitorare gli asteroidi sia dallo spazio sia da terra e solo in questo modo possiamo appunto agire per tempo per difenderci da questo pericolo dallo spazio. Io con questo vi ho raccontato tutto penso sia venuto un video abbastanza breve per una volta perché per una volta abbiamo abbastanza dati da poter raccontare in maniera chiara e diretta che cosa è successo di un episodio di questo tipo. Comunque vi ringrazio appunto per avermi seguito fino a qui vi invito nuovamente a iscrivervi al canale attivare la campanella e a dare un'occhiata ai vari link che vi lascio in descrizione tra cui quello del mio libro giganti ghiacciati l'ultimo uscito ormai lo sapete o i link al canale telegram il gruppo telegram che sono i luoghi in cui rispettivamente vi racconto le varie novità sulla mia attività di divulgazione e in cui invece possiamo conoscerci e chiacchierare insomma con tanti appassionati come voi. Quindi se vi iscrivete ci vediamo lì altrimenti nei prossimi video. Ciao e alla prossima!